Contemperare le esigenze dei territori, dei singoli studenti, dell'azienda tua e degli istituti scolastici che però in virtù dell'autonomia loro conferita non hanno sempre orari standardizzati. I sindaci dei comuni dell'Alta Val Pescara chiedono di assicurare agli studenti pari diritto a prescindere dal luogo di residenza. I disagi riguardano i ragazzi che frequentano le scuole superiori di Pescara, in particolare l'Istituto Alessandro Volta, il Liceo Artistico Belisario Misticoni e l'Istituto Alberghiero De Cecco. Spesso, a causa dello scordinamento tra orari de busse ed orari di uscita, gli studenti restano fuori casa per 12-14 ore, quando invece le lezioni durano tra le 6 e le 8 ore. Insomma, penalizzati gli studenti che non abitano in città. Urge una soluzione. Stamane, nella sede della tua, incontro con i presidi delle tre scuole, con l'ufficio scolastico regionale e con il provveditorato. Il sindaco di San Teofemia a Maiella, Francesco Crivelli, e il direttore generale di tua, Max Milian Di Pasquale. C'è una sincronia eccessiva, insomma. C'è una sincronia eccessiva, ma io credo che ci sia la volontà da parte di tutti di risolvere la problematica, affinché i nostri ragazzi possano avere la possibilità di seguire le attività didattiche e poi avere il tempo necessario per studiare e vivere la loro vita. Assolutamente, anche per non penalizzare, soprattutto gli studenti che non abitano in città. Dovete trovare una sintesi, immagino. Qual è in concreto la richiesta? Beh, adesso vediamo. Il problema è legato prevalentemente al rientro pomeridiano, che li costringe a prendere degli autobus molto tardi nel pomeriggio e a rientrare molto tardi. Vede, si tratta più che altro di una questione di principio legata ai piccoli comuni, nel senso che non garantire la possibilità di un'istruzione adeguata a questi studenti fa sì che poi le famiglie sono costrette in qualche modo a spostarsi, quindi il problema dello spopolamento, così come il fatto che poi nei nostri comuni il tasso di scolarità che rischia di essere più basso rispetto alle città fa sì che non abbiamo quel capitale umano che poi magari nel tempo possa sviluppare, avere le professionalità adatte per salvaguardare le prerogative dei nostri comuni. È chiaro che poi mettere insieme gli orari di diverse scuole con un trasporto che deve essere sempre al massimo non è sempre semplice, quindi diciamo bisognerebbe anche in futuro spostare molto l'attenzione su tavoli che andrebbero fatti prima tra enti locali, istituti scolastici sottolineo e sicuramente l'azienda di trasporto. Il concetto semplice è che la capacità produttiva è limitata, noi abbiamo quel numero di autobus, quindi se a una certa ora sono tutti fuori per fare il servizio noi abbiamo la capacità produttiva già saturata e quindi c'è bisogno di vedere come rendere compatibile le esigenze ed è quello che si sta facendo oggi.